Ciao a tutti, chiamo del team Lil Baretto e oggi esporremo il nostro video. Partiamo. Allora, per l'ennesima volta Gianni viene ricattato da Luca ed è costretto a dargli la merenda. Gianni non lo può più e decide di... Andiamo noi. Non fare nulla. Denunciare Luca contro le sue minacce, risolverla per conto suo. Dopo, prenderemo la seconda. Dopo che Gianni ha accusato Luca e lui è stato punito dai professori, decide che è giunto il momento di passare alla seconda fase e deriderlo per non giro un mezzo a tutti. Gianni, che ora è sentito sulla bocca di tutti, decide di... Postare foto imbarazzanti di Luca sui social, lasciare che Luca lo derida davanti a tutti, capire perché Luca lo fa. Prenderemo la terza. Gianni che è stupato dalle minacce di Luca ed è intento a... Vediamo cosa ci sta. E con le giro. Picchiare Luca per fargli capire chi comanda. Non combattere ma cercare di avvicinarsi alla classe. Prenderemo la seconda. Un parkour. Bello questo mare. Molto profondo. Andiamo avanti. Una giungla con dei panda. Molto carino. Gianni è stato schiuso dalla classe e Luca è felice di questo. Ma Gianni... Fa amicizia con Luca e finiscono per essere i migliori amici. Non interessa perché è l'ultimo anno. Prendiamo la... Trova una leva da usare alla fine della mappa. Un indizio si trova in alto. Con tutti questi alberi sarà sicuramente in alto. E' uno vecchio... Dove... Dai... Andiamo avanti. Dai. Dai. Dai, perfetto. penso che saremmo quasi un ruolo perfetto, sulla banca della testa c'è un pulsante perfetto, torniamo giù prendiamo la prima allora, mettiamo il pulsante grazie